Giuseppe Bonito è uno degli assi della pittura napoletana del Settecento e qui alle mie spalle a Toronto lo si può vedere al suo meglio. La Contadina è davvero un pezzo straordinario, un'immagine iconica che è chiamata a rappresentare la Basilicata e se vogliamo l'intera arte meridionale del XVIII secolo, del secolo dell'illuminismo. E qui vi presento uno dei capolavori della nostra collezione e se vogliamo di tutta l'intera arte lucana. Siamo felici di aver portato qui questa bellissima opera per promuovere le bellezze della Basilicata, per promuovere Matera, capitale europea della cultura 2019. Un primo grande evento, ne seguiranno altri, proprio per far conoscere questa terra che tante persone sono desiderose di visitare. Questa è un'iniziativa assolutamente speciale, nata grazie a una collaborazione particolare con il Polo Museo della Basilicata e in particolare con la Pinocoteca Camillo Del Rico. Siamo riusciti, grazie alla collaborazione con loro e alla collaborazione con il Consolato, ovviamente, di cui noi siamo l'Ufficio Culturale, a portare a Toronto questo capolavoro che abbiamo alle mie spalle. È davvero un privilegio poter avere a Toronto un dipinto di questa qualità ed è bello aver visto questa sera la risposta del pubblico così entusiasta, così appassionata e senz'altro so che avremo molti visitatori nei prossimi giorni.